Benji ricoverato in ospedale, la notizia è falsa, il cantante è a casa con la febbre una foto risalente al 2014 pubblicata da Federico Rossi è stata fraintesa e ha dato il via a una notizia falsa sul conto di Benjamin Mascolo. il cantante non è stato ricoverato in ospedale ma ha dovuto interrompere l'in-store tour per via della febbre in foto, la foto di Benji in ospedale risale al 2014 Benji e Fede sono attualmente impegnati nell'in-store tour Benjamin Mascolo, però, si è visto costretto a fermarsi per alcuni giorni per via della febbre Federico Rossi, allora, ha celebrato la loro lunga amicizia pubblicando sui social una foto che lo ritrae al fianco di Benji quando il giovane è stato ricoverato in ospedale nel 2014 L'immagine è stata fraintesa e così alcune testate hanno riportato erroneamente la notizia del ricovero del cantante. Le parole di Fede e la foto fraintesa Federico Rossi ha pubblicato un breve post sui social nel quale ribadiva la profonda amicizia che lo lega a Benjamin Mascolo. Le sue parole sono state, mi è capitata e non per caso questa foto. Che dire, ci siamo sempre stati l'uno per l'altro, e sarà così per sempre fra te. La dedica era accompagnata da una foto che lo ritraeva al fianco di Benji mentre quest'ultimo era ricoverato in ospedale. L'immagine, vedi in alto, è stata fraintesa e su alcune testate è circolata la notizia secondo la quale il cantante sarebbe stato ricoverato in questi giorni. La foto, in realtà, risale al 2014 quando Mascolo venne trattenuto in ospedale dopo un lieve malore. Ecco il post con il quale il 20 luglio 2014, la pagina ufficiale di Benji e Fede raccontava l'accaduto. Benji tranquillizza i fan è vero, tuttavia, che Benji si è visto costretto a interrompere l'in-store tour ma solo perché ha la febbre. Qualche giorno di riposo e sarà pronto a incontrare di nuovo i fan. Il cantante è intervenuto sui social per rassicurare le tantissime persone che lo seguono e che hanno manifestato preoccupazione per le sue condizioni di salute. Grazie a tutti!